La casa editrice Dedalo ha pubblicato una collana molto interessante intitolata Le grandi voci. È un titolo ovviamente onorifico per gli autori che sono stati accolti in quella collana, ma mi tocca in questo caso di richiamare sull'onda delle gravissime vicende che stiamo vivendo il libricino intitolato Europa gigante incatenato, che parve all'epoca un titolo un po' forte, anche perché eravamo in tempi pacifici, adesso siamo in tempi durissimi e forse, credo, molto pericolosi. In quel piccolo libro veniva sviluppata una tesi che spiegava poi il titolo incatenato, che cioè l'Europa è un soggetto importante su tutti i piani, cultura, economia, tecnologia, livelli anche di alfabetizzazione diffusissimi, artistici, quindi è forse il giardino del mondo, potremmo dire, ma purtroppo è incatenata dentro un'alleanza militare nata molto a tempo fa, nel 1949, il Patto Atlantico, che la colloca in una situazione di minorità, come a dire, le grandi decisioni che talvolta la storia impone di prendere, non le può prendere da sola, le prende sotto la spinta, la suggestione, potremmo dire anche una parola un po' forte, il ricatto della potenza egemone che è tale per molte ragioni, compresa la forza militare ed economica di cui dispone, cioè gli Stati Uniti d'America, che sono la parte preponderante all'interno di questo patto apparentemente difensivo, che è il Patto Atlantico, che però in realtà da ultimo, almeno in due casi, negli ultimi venti anni, si è rivelato un patto anche offensivo, la guerra contro la Jugoslavia, la guerra contro l'Iraq, l'intervento in Afghanistan, sono stati tutti sotto l'egida, potremmo dire, o l'etichetta del Patto Atlantico. E l'Europa si è accodata, ha mandato via via contingenti di qua e di là. Ora siamo in una crisi di gravità eccezionale, perché il conflitto è addirittura nel cuore dell'Europa, e noi europei, invece di prendere un'autonoma iniziativa molto forte, tale da mettere in rispetto, potremmo dire, i contendenti, che sono appunto da una parte la Russia e dall'altra gli Stati Uniti d'America attraverso i loro alleati fedelissimi europei, invece di collocarci fuori di questo conflitto e imporre ai contendenti una soluzione negoziata, ci troviamo a procedere a ridosso di decisioni prese altrove. Ora, in tempi di conflitti localizzati, questo si può anche sopportare, specie quando sono molto lontani e non c'è il rischio che si estendano. Ma l'attuale conflitto rischia davvero di estendersi, se ne parla in continuazione, si disputa su quali potrebbero essere gli effetti. Il presidente della regione Veneto addirittura ha lanciato un censimento dei rifugi antiatomici, l'esercito è stato messo in stato di allerta, l'esercito italiano, ieri con una circolare che ha bloccato i congedi. Quindi si respira un clima diverso dal passato e sarebbe veramente il momento di togliere le catene a questo gigante, non per egoismo, ma per il bene che può fare conducendo una politica autonoma.